Con il direttore Luca Matteassi per commentare questa preziosissima vittoria, direttore, figlia di un primo tempo importante e probabilmente il migliore stagionale. Sì, preziosissima, è da tanto tempo che non ottenevamo i tre punti, oggi siamo riusciti, abbiamo fatto il primo tempo veramente stupendo, quasi perfetto, e nel secondo tempo ci siamo fatti del male da sole, abbiamo preso questo gol per colpa nostra, abbiamo avuto 4-5 falle contro Pia di Pepe per chiudere la partita definitivamente, invece ci siamo fatti del male da sole. Ci spiega come è cambiato in una settimana questo Pescara, è chiaro che 45 minuti devono avere poi continuità nel corso delle prossime partite, però nel primo tempo abbiamo visto una squadra che ha comandato le operazioni, ha creato palle e golle, non ha praticamente mai permesso al Grosseto di arrivare da Sorrentino. Sì, abbiamo fatto soprattutto un ottimo primo tempo, hanno giocato veramente un gran calcio i ragazzi, hanno messo quella cattiveria giusta che ci vuole in Serie C, non abbiamo subito un tiro in porta e quindi questi ragazzi oggi hanno fatto veramente molto bene. Peccato per quell'errore di Diambo in uscita, palla persa sia un poco che ha regalato 10 minuti di speranza al Grosseto, perché anche fino a quel momento c'erano state solo due parate di Sorrentino su quei destri di Moscati. Sì, sì, anche Diambo ha fatto un'ottima partita, però purtroppo ha perso questa palla e come ho detto prima ci siamo fatti del male da solo, abbiamo rifatto di entrare in partita il Grosseto, quando in partita non c'era mai stato. Cosa era successo a Memusce, ora ce lo puoi dire? Memusce ha avuto un problemino al ginocchio e quindi il mister ha preferito non rischiarlo, lasciarlo fuori e lasciandolo fuori, però sono molto contento perché anche Diambo ha avuto questa possibilità, ha fatto molto bene. Avete fatto intendere più volte che nel mercato di gennaio sicuramente si partirà dai centrocampisti, però questo Diambo, a parte quella palla persa, potrebbe essere un rinforzo interno importante? Ma sì, il mercato non voglio parlarne perché ancora è lunga, bisogna, ripeto, toglierci da questa situazione dove ci siamo messi e Diambo ha fatto bene e speriamo che continui su questi livelli. Sul Rizzo vuole dire qualcosa perché non abbiamo mai ascoltato le parole di Matteassi su quella squalifica? No, l'ho già detto, Rizzo ha sbagliato e ne pagherà le conseguenze, ha preso quattro giornate e basta. Massimo ti ascolta, Matteassi che ha l'auricolare. No, sicuramente un primo tempo all'altezza del Pescara perché tutti adesso diranno ma il Grosseto è poca cosa, io dico invece che le partite vanno vinte sul campo e non a chiacchiere, quindi il primo tempo ce lo teniamo stretto, poi nella ripresa vabbè un po' di sofferenza tra virgolette soltanto nel finale per il gol di Cretella. La domanda invece riguarda proprio Pompetti che oggi ha giocato a mio avviso una quantità industriale di palloni, non c'era Memushai, è un caso? Ma no, è venuta così la partita, oggi anche Diambù ha fatto molto bene, a parte l'errore quando ha perso la palla, però anche Diambù ha fatto molto bene. Pompetti è vero, ha toccato un'infinità di palloni, non lo so se è un caso o no, però ha fatto veramente una grande partita Marco. Io faccio l'ultima domanda al direttore Matteassi prima di salutarlo perché lei ha detto più volte, direttore, dobbiamo accendere la scintilla per fare un numero importante di vittorie, questa diciamo è l'ultima chance per entrare nel giro che conta, adesso bisogna dare continuità, è d'accordo? È d'accordissimo, dobbiamo dare continuità, dobbiamo cercare di arrivare più in alto possibile, come si dice sempre, ormai sono diventato anche, stufo le persone a dire questa cosa, ma è la verità, abbiamo fatto un'ottima partita, siamo molto felici, dobbiamo cercare di dare continuità ai risultati. Quando parlerà di mercato? No, adesso fino al 22 siamo concentrati sul campionato, poi dopo penseremo al mercato. Ci sta già pensando? Sì, chi fa il mio lavoro è normale che deve guardarsi intorno, però pensiamo... Facciamo il titolone, sto pensando al mercato? No, assolutamente no, sto pensando a vincere le partite, poi vediamo. Vai, vai, ti ascolta Luca. No, una domanda, non è polemica Matteassi, però insomma, dopo la partita con Lucchese, Sebastiano ha detto, Oteri non si tocca, poi tu hai chiamato Oddo, perché insomma è storia nota, il giorno dopo hai sondato la sua disponibilità, Oddo ricordiamo che è sotto contratto, poi però c'è stata un'intervista rilasciata da te proprio al quotidiano del Tirreno, nella quale hai detto, Oteri non si tocca, resterà l'allenatore del Pescara sino al termine della stagione. Che cosa è successo in questa settimana? Perché insomma ci sono state dichiarazioni di segno opposto. Il mister sa tutto, ma questa qui non l'ho detto solamente al giornale del Tirreno, l'ho detto benissimo, mi sono confrontato con i ragazzi questa settimana, io con loro e gli ho ribadito queste cose. Gli ho spiegato tutto, che il mister sarebbe rimasto fino a fine stagione qua. Che il mister rimane fino a fine stagione a Pescara.